Il teatro Vittorio Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana rappresenta il cuore pulsante culturale della Garfagnana. Oltre 150 anni di storia, cultura e spettacolo sono custoditi tra queste mura e restano impressi nelle tavole di questo palcoscenico. Il teatro, costruito su quattro ordini, tre di palchetti, un ampio loggione, due ridotti e due piani di camerini. Può accogliere fino a 510 spettatori. La compagnia Il Circo e la Luna abita il teatro insieme a te. Di concerto con l'amministrazione comunale ci occupiamo di mantenere il teatro pulito, organizzato e funzionale affinché spettatore o professionista che tu sia possa sentirti a casa, accomodarti e goderti lo spettacolo. Teatro, danza, prosa, musica, laboratorio di formazione per adulti, bambini e ragazzi. Il teatro Alfieri ti aspetta per il 2022 con tante iniziative, rassegne per le famiglie, momenti di riflessione, incontri con gli artisti. Visita il nostro sito internet e resta connesso con noi. Questo è il tuo teatro. Grazie a tutti.